Oggi andiamo ad aprire la collezione della professoressa Ralia che al suo interno contiene buona parte dei set di spada e scudo. Siete pronti? Troviamo anche la full art di ricerca accademica con la professoressa Ralia e le sue tre carte olografiche che io spero che voi troviate molto meno spiegazzate di come lo trovate io. Ma adesso veniamo al ciotto. Qua abbiamo le nostre sette bustine che comprendono astri lucenti, due per tre addirittura, colpo fusione, colpo fusione e ben due di regno graciale. Ma torniamo a noi e partiamo col primo pacchetto di colpo fusione. Un dynamo reverse e sotto un last ray raro nonolo. Chetto di colpo fusione numero due, rabin reverse e sotto un grambul raro nonolo. Primo pacchetto di astri lucenti, un dasconal reverse e sotto un empole onolografico. Nel prossimo video andremo ad aprire gli ultimi quattro pacchetti di questa collezione che direi che siano anche i più succosi. Vi ringrazio per la visione, vi chiedo di iscrivervi e ci vediamo appunto in un prossimo video.